Benvenuti a Braga in Portogallo. Braga è una città ricca di storia e di cultura soprannominata la Roma del Portogallo. E' la terza città più grande del paese e si trova nel nord del Portogallo a circa 50 chilometri da Porto. Da Porto è raggiungibile con le ferrovie e regionali, molto più economiche dei treni veloci. In biglietteria vi faranno una carta che costa pochi centesimi e vi permetterà di risparmiare anche solo con un viaggio di andata e ritorno. Braga è una città con una storia millenaria, fu fondata dai Romani nel I secolo a.C. e fu un importante centro religioso durante il Medioevo. E' la sede dell'Arcivescovado di Braga, uno dei più antichi e importanti del Portogallo. La città ospita numerosi monumenti storici, tra cui la Cattedrale di Braga e il Santuario del Bon Jesus do Monte. La Cattedrale di Braga è una chiesa romanica del XII secolo, uno dei più importanti monumenti del Portogallo. La cattedrale presenta uno stile romanico-borgognone, in seguito molidificata con una miscela di stili romanico, gotico, manuelino e barocco. Il Santuario del Bon Jesus do Monte è un complesso di chiese e cappelle situato su una collina, raggiungibile attraverso una scalinata di 582 gradini, oppure molto più comodamente in una funicolare particolarmente pittoresca. Comunque vi consiglio almeno di scendere a piedi per ammirare meglio la magnifica scalinata, scalinata formata da 17 pianerottoli decorati da fontane simboliche, statue allegoriche ed altre decorazioni barocche. Il Santuario ha una raffinata facciata dotata di due campanili e un meraviglioso giardino che lo circonda, in un trionfo di statue, grotte e laghetti artificiali. La cucina di Braga è un mix di influenze portoghesi e spagnole. Piatti tipici della città includono il Baccalao alla Brass, anche detto appunto alla Braga, il Brodo Verde e la Francesigna. Braga è una città facile da visitare, il centro storico è pedonale e la maggior parte dei monumenti è facilmente raggiungibile a piedi, ad esclusione del santuario che preferibilmente si raggiunge in autobus dal centro. Braga è una città ricca di storia, cultura, gastronomia, è un luogo perfetto per un weekend di relax o per un viaggio più lungo alla scoperta del Portogallo settentrionale. Se state programmando un viaggio in Portogallo consiglio di non perdervi di Braga, è una città che vi lascerà senza fiato, letteralmente, se vi farete la scalinata del santuario in salita.